Musica Direttore ripartiamo un attimo dal match col Cittadella so che avete rivisto le immagini con attenzione del match ci sono stati tanti episodi negativi e tanti errori arbitrali a fine gara Mr. Pivarini si è limitato a dire spero di non pagare colpe non nostre Matteo Ordemagna ha detto siamo stufi, lei cosa dice? Io ho molto rispetto della classe arbitrale perché fanno un lavoro difficile sono molto sotto pressione però tendono anche molto spesso a complicarsi la vita perché Gersini sabato è stato il protagonista assoluto del match e un arbitro non dovrebbe mai esserlo ha sbagliato negli episodi perché poi le immagini hanno confermato ciò e purtroppo ha condizionato il risultato della partita poi dobbiamo dire che il pareggio probabilmente era giusto per quanto si è visto in campo ma gli episodi potevano far pensare che se fossimo andati in vantaggio sarebbe stata un'altra partita io mi chiedo, visto che era anche molto ben posizionato come ha fatto a non fischiare un rigore del genere quello su Beretta per la sfortuna ha voluto che nell'azione seguente il Cittadella ha fatto gol quindi lì ha condizionato la partita chiediamo più attenzione e meno protagonismo poi sbagliano loro, sbagliamo noi, sbagliano tutti però l'arbitro deve essere giudice e basta, non protagonista e negli ultimi arbitraggi non sempre possiamo dire che è avvenuto ciò Il lato positivo del match con il Cittadella è che avete tenuto testa tecnicamente e tatticamente alla miglior squadra vista qui al Del Duca quest'anno un buon auspicio per un altro match, quello col Brescia contro una squadra seconda in classifica e in grande fiducia Sì, il Cittadella è una delle realtà consolidate degli ultimi anni di Serie B è una squadra che è tatticamente ineccepibile è una squadra che oramai da anni partecipa sempre ai playoff e anzi ogni anno rischia di lottare per la Serie A diretta abbiamo fatto una buona partita sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista di attenzione e dal punto di vista tattico e anche a livello qualitativo è stato buono senza il nostro uomo di maggior qualità quindi è stata una risposta importante che ha dato la squadra e questa è la strada da perseguire E adesso pari per Brescia che non è un avversario molto semplice da affrontare Eh ma ce la giochiamo loro sono una squadra che ha investito tanto ha costruito una rosa per vincere all'attaccante principe oramai da anni della Serie B altre individualità importanti come il Golden Boy adesso è calcio italiano che è Tonali è Indoi che è destinato a una carriera di Serie A Bisoli, Morosini, Sfalec, Torregrossa chi più ne ha più ne metta però noi siamo lascoli noi sappiamo quali sono le nostre armi giochiamo in casa e dobbiamo andare al 130% delle nostre potenzialità se lo faremo faremo una bella figura l'abbiamo già fatto in passato e cercheremo di farlo anche col Brescia Ha parlato di Ninkovic quanto ha pesato l'assenza di questo giocatore nelle ultime due gare dopo comunque una piccola ingenuità anche se tre giornate erano troppe e se ci può confermare che comunque resterà in maglia bianconera nonostante le offerte che sono arrivate anche dall'estero Eh sì, Ninkovic ha pesato anche se chi l'ha sostituito ha fatto il massimo e questo li va riconosciuto e Ninkovic rimarrà senza dubbio ad Ascoli e a gennaio perché è una pedina troppo importante per noi non è neanche sostituibile insomma nel mercato di gennaio anche perché non sempre, non ogni anno si possono trovare giocatori come Ninkovic quindi a parte integrante del progetto lui sta bene e andremo avanti insieme Tra poco più di due settimane inizierà la finestra invernale di calciomercato voi la scorsa estate avete allestito una rosa per un modulo il 3-5-2 poi dopo due gare c'è stato il passaggio al 4-3-1-2 e ovviamente ci sono dei ruoli scoperti andrete a lavorare per un vice tersino destro un vice tersino sinistro e un vice Ninkovic? Ma noi lì per forza di cose se abbiamo dei giocatori adattati non specifici nonostante si stiano impegnando al massimo e anche con discreti risultati se possiamo migliorare e colmare determinate lacune certamente non ci tireremo indietro Come stanno dal punto di vista fisico e se potremo rivederli a breve Zebli Coli Ingrosso e Valò Allora Zebli è ancora a lungo la degenza ha avuto un intervento molto delicato il prossimo step è al mese di febbraio dove farà un'ulteriore visita dove stabiliranno se ci sarà bisogno di un altro intervento o meno quindi penso che non si possono fare previsioni per Zebli Valò ha avuto questa frattura al piatto tibiale però in fase di recupero non è stato necessario neanche l'intervento penso che lui per gennaio recuperi Ingrosso ci auguriamo che anche lui possa recuperare per gennaio E colì E colì anche anche è l'aspettativa del mese di gennaio Sul fronte dei rinnovi state parlando con a De o lo farete? Ma su fronte dei rinnovi non abbiamo ancora intavolato trattative perché oltre a De abbiamo altri 3-4 giocatori importanti per noi a scadenza di contratto mi riferisco a Laverone mi riferisco a Valentini mi riferisco a Troiano e quindi abbiamo ritenuto opportuno durante questa prima fase di campionato non intavolare trattative per non distogliere l'attenzione su quello che è l'obiettivo principale che è l'obiettivo campo anche perché questo è un campionato irto di difficoltà e la Serie B più difficile di tutti i tempi questa Serie B ha 19 squadre quindi se non ci si può distrarre perché se no si rischia grossissimo penso che durante il riposo questa finestra qualche discorso sarà affrontato le ultime due che riguardano il mercato sul fronte portieri si va avanti con questa attuale gerarchia l'anni poi perrucchini baci all'occorrenza scevola il campo in questo momento sta dicendo questo e quindi si va avanti così non ci saranno movimenti sul fronte portieri ma ad oggi io vedo insomma tutti ben consci del loro ruolo contenti, sereni non è non è una priorità In attacco sono tanti gli elementi del reparto offensivo state pensando a qualche movimento perché non sono arrivati tantissimi gol dagli attaccanti anche se le prestazioni sono state spesso sufficienti siete soddisfatti dell'attacco e andrete a lavorare sull'attacco? Ma è uno dei reparti che è attenzionato è naturale che i numeri non sono dei numeri importanti nonostante poi Matteo abbia una mega gol rispetto ai minuti giocati importante Beretta ci abbia dato un buon contributo dal punto di vista delle prestazioni purtroppo non è riuscito a far gol e questo ripesa tanto Rossetti è sulla via del recupero ed è molto qualitativo in allenamento Ganza ha avuto un momento positivo adesso è un po' faremo delle valutazioni Sul totonomi la disturberemo dopo Natale gliene faccio solamente uno per il reparto offensivo quello di Marcello Trotta che è un ragazzo che sta giocando poco col sassuolo sul quale ci sono squadre sia di A che di B è un nome nella sua agenda? Parliamo di Trotta e parliamo di dei top Trotta è un top in serie B e quest'estate non ci è voluto andare nonostante lo volesse il Palermo insomma le migliori squadre se mi chiedi se c'è gradimento per Trotta ti dico di sì ma ti direi di sì se mi dicessi gli altri tre di Donna Ruma o i Bomber Principi poi sulla fattibilità di determinate operazioni oggi non possiamo non possiamo saperlo vedremo poi i budget che avremo a disposizione per fare il mercato perché non non abbiamo ancora affrontato questo tipo di discorso vedremo anche la posizione di classifica perché questi sono tre partite determinanti per capire di che morte dobbiamo morire sperando di rimanere vivi quindi è ancora un po' presto per individuare l'obiettivo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti